Giovanni Impastato, fratello di Peppino che oggi incontra i ragazzi della Massari Galilei, dei giovanissimi ragazzi, autore tra l'altro del libro Oltre i Cento Passi. Ecco, io partirei proprio da questo. Cos'è successo Oltre quei Cento Passi? Beh, ma sono successe tante cose che secondo me era necessario mettere in evidenza e scrivere sul libro. Cioè, partiamo dal titolo, Oltre i Cento Passi può sembrare qualcosa contro il film. Niente di tutto questo, perché noi siamo molto riconoscenti nel film, perché ci ha dato la possibilità di far conoscere in pochissimo tempo la storia di Peppino in tutto il mondo. Però, ecco, come nasce appunto il libro? Noi in tutti questi anni, negli anni prima del film, che sono passati più di vent'anni, noi abbiamo lavorato tantissimo. Abbiamo portato avanti un lavoro di analisi, di memoria, di denuncia, di lotte. Cioè, abbiamo fatto un po' tutto quello che abbiamo potuto. Però, anche abbiamo studiato pure, però a livello di comunicazione, a livello di approccio con le nuove generazioni, a livello di far conoscere questa storia al grande pubblico, io intendo grande pubblico numeroso, dal punto di vista della qualità, non siamo arrivati dove è arrivato il film nel giro di 48 ore. Nel giro di 48 ore, dopo che il film viene presentato a Venezia, praticamente Peppino era conosciuto in tutto il mondo. Però, il libro nasce perché abbiamo dovuto difendere Peppino pure dal film. Sembra un po' paradossale la cosa, perché il film ha eroizzato questa figura, lo ha reso un eroe, un mito, un'icona. E noi sappiamo benissimo che gli eroi, in alcuni casi, possono apparire irraggiungibili. Non so se voi conoscete quella famosa canzone di Francesco Guccini, La Locomotiva, che in un ritornello, nel ritornello, lui ripete per tre volte, gli eroi sono sempre giovani e belli. Sì, gli eroi sono giovani e belli. Peppino è rimasto giovane, è rimasta una bella figura. Io sono invecchiato, noi gli amici siamo invecchiati, lui è rimasto giovane. E però, guardate, gli eroi possono apparire, come dicevo poco fa, irraggiungibili. Ma noi dobbiamo difenderli da tutto questo, perché dobbiamo considerare Peppino non un eroe, ma un punto di riferimento importante. Uno che possiamo toccare con mano, che deve stare a fianco a noi, che ci deve aiutare tantissimo. Ecco, allora, per questo nasce questo libro. Poi, diciamo che oltre 100 passi c'è un mondo, ci sono incontri con gli studenti, come quello di oggi, con gli insegnanti, con la società civile, con le associazioni. Ecco, che viene descritto qui, per esempio, il rapporto col mondo cattolico, perché noi abbiamo aperto anche un dialogo con persone che fanno parte di culture diverse. Alcuni episodi importanti che vengono documentati nel libro ed era giusto che venivano trasmesse. Qual è il modo giusto per parlare di mafia ai ragazzi? Ma il modo giusto di parlare di mafia, io credo che deve essere semplice, li deve emozionare raccontando delle storie e delle esperienze, che non bastano soltanto le storie e le esperienze. È chiaro che da un'esperienza di vita, da una tragedia di vita, bisogna trasmettere a loro non soltanto l'indignazione, ma bisogna anche trasmettere il coraggio, bisogna trasmettere un po' la spregiudicatezza in senso positivo per andare avanti e per cercare di ribellarsi di fronte a tantissime ingiustizie. Per esempio la storia di Peppino si presta tantissimo a questo. Basta raccontare la sua storia che è un modo facile per coinvolgerli nell'impegno di lotta contro la mafia, perché il suo messaggio positivo, perché non è soltanto un messaggio di impegno civile, di lotte, di impegno antimafia, ma è molto educativo, soprattutto per loro. Se consideriamo che c'è la rottura col contesto, con la società, ma anche con la famiglia, perché la nostra era una famiglia di origine mafiosa, se consideriamo che Peppino si portava avanti la grande battaglia di civiltà e di democrazia a favore dei contadini, a favore dell'ambiente, il suo impegno politico, ecco, io credo che questo è il modo semplice per cercare di coinvolgere i ragazzi, gli studenti, raccontare delle storie, delle esperienze e nello stesso tempo essere anche propositivi e dare quella speranza di cambiamento, perché sennò loro entrano in una fase di rassegnazione. La storia di Peppino, ma anche la vostra storia. A 1978 Peppino muore, 9 maggio 2002 c'è la condanna definitiva per badalamenti. Che anni sono stati quelli per lei? Beh, sono stati anni pesanti, durissimi, abbiamo vissuto molto isolamento, siamo stati isolati, le persone che si dovevano schierare dalla nostra parte si sono schierate dalla parte opposta, io parlo dei giudici, degli investigatori e dei carabinieri che hanno depistato le indagini fin dall'inizio, ecco, ed è stata dura, perché i nostri nemici non erano soltanto i mafiosi, ma anche quella parte dell'istituzione che ramava contro di noi. Ecco, questa cosa si è complicata proprio per questo, però noi ci abbiamo creduto, perché bisognava crederci, anche se molte persone venivano uccise in quel periodo, persone che si erano occupate anche del caso di Peppino, che avevano dato un contributo importante alle inchieste e venivano uccise una dopo l'altra. Sicuramente non perché avevano in mano quell'inchiesta, anche per altre inchieste, e la cosa diventava sempre più dura, però poi è arrivata quella grande svolta che ci ha portato alla verità, anche la commissione antimafia. In poche parole, appena è entrato il nuovo secolo, quello per noi è stato un secolo di conquiste, perché appena è entrato il 2000, il nuovo secolo, ripeto, noi abbiamo ottenuto i processi con le condanne, la relazione della commissione antimafia, il film con il grande successo che ci ha proiettato a livello mondiale, a livello internazionale, queste cose, ripeto, sono avvenute ad entrata secolo. Il 2000 per noi è stata la svolta importantissima. Un'ultima domanda, prima ha parlato di Peppino, della figura di Peppino, non è un eroe ma è una persona umana che ha lottato in tutti gli anni della sua vita. Allora le chiedo questo, di restituirci un'immagine di Peppino Impastato. L'immagine di Peppino Impastato è sempre quella, io ce l'ho immortalata nella mente, ci sono ricordi stupendi di Peppino quando lottava assieme ai contadini, quando faceva i comizi, perché lui era bravo a fare i comizi, a comunicare, a fare le trasmissioni a radio, però, ripeto, a me manca quell'aspetto ironico. L'ironia di Peppino era una cosa meravigliosa, era un piacere. Quando lui diventava ironico e ottimista, era un piacere stare assieme a lui. Io me lo ricordo in un carnevale, quando lui addirittura si improvvisa, mangia fuoco, e noi non sapevamo di lui perché era scomparso. Improvvisamente vediamo un po' di confusione in piazza e c'era lui, vestito da clown, che intratteneva i bambini, che faceva sorridere e faceva divertire i bambini. Ecco, questo è il peppino scansonato che mi manca tantissimo. Grazie a Giovanni Impastato. Grazie a voi, grazie per l'invito e per avermi dato la possibilità di interroguire con i vostri telespettatori. Il meteo è offerto da Amici di Trevi Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, che vedrà nuovi sistemi nuvolosi sull'Italia e pressione atmosferica sempre relativamente bassa. Insomma, ombrelli a portata di mano. Andiamo a vedere la nuvolosità prevista sul nostro paese. Dopo una partenza apparentemente tranquilla, tornano nuvole sempre più diffuse, sempre più compatte. Interesseranno dapprima il nord Italia, ma poi rapidamente si estenderanno anche all'Italia centrale. E nuvolosità che porterà anche degli acquazzoni, dei piovassi. Si tratterà di temporali pomeridiani, però più di breve durata. Ma come vedete, buona parte del nord e dell'Italia centrale, specie per il santo e tirrenico, avranno tempo molto variabile. Quindi, in definitiva, giornata di instabilità, questa è la parola corretta. Al nord, in gran parte dell'Italia centrale, sul versante tirrenico, acquazzoni temporali saranno sempre probabili e possibili, anche se si tratterà per lo più di fenomeni di breve durata, accompagnati anche da delle scherette. Quindi, davvero, variabilità e instabilità, le parole d'ordine per questo mercoledì. Con questo è tutto per i dettagli scaricate, l'app gratuita di Trebi Meteo. Il meteo è offerto da SGServiceSud.it